Tutte le altre persone che non avevano pagato questo prezzo, non avevano fatto questo sacrificio, stavano perrendo perché stavano morrendo, perché sulla terra erano alzate le acque, per mezzo di queste acque loro stavano annegando, pertanto per loro la morte era vicina, ma ciò non era accaduto a noi perché lui fece la volontà di Dio Onipotente. Nella Sacra Bibbia c'è scritto, tu verrai salvato e per mezzo tuo verrà salvato anche la tua famiglia, ma voi siete disposti a pagare un prezzo, se voi siete disposti a pagare questo prezzo, non soltanto voi, ma anche la vostra famiglia verrà salvata. La vita di Dio Onipotente Nella Sacra Bibbia anche questo richiede un grande sacrificio.